Per l'Occidente, Cristo è morto? Commento Cristo è uno stato di coscienza e uno stato di coscienza non muore. Uno stato di coscienza non combatte, si afferma nei secoli e si installa nell'anima e nei comportamenti di chi è pronto. Cristo è compassione per la condizione umana e insieme connessione che spiega perché esiste questa condizione. I secoli scompaiono verso il futuro, ma allo stato di coscienza Cristo, che per l'Occidente è l'evoluto per eccellenza, attende di liberare l'uomo dall'infelicità dell'io. Grazie a tutti.